Buonasera a tutti, siamo Teresa e Beatrice, due catechiste della parrocchia Santissimo Salvatore. Da due anni collaboriamo con l'azienda Ipo e in questi due anni abbiamo organizzato delle serate informative nelle quali l'azienda ci ha dato il contributo, una volta di 400 euro e un'altra volta di 600 euro, contributo che abbiamo utilizzato per le attività parrocchiali. Grazie Ipo!